Fun! Numbers! Sora... Ascoltami! Pippo! Non parlare! Ora cerco aiuto! Sora... Assicurati di sconfiggere Xeblas... Di Heartless... E di nessuno! Pippo! Un giorno... Scopriremo che c***o è Kingdom Hearts... È tipo una porta o qualcos'altro... Non lo so... Ma Pippo... Ti prego... Resta con noi! Mi dispiace Sora... Il suo cuore sta attraversando le porte delle tenebre... Temo che presto diventerà un Heartless... E il suo cervello un nessuno... Che ne so io... Ricorda questo Sora... Tra 158 fratto due giorni... Oddio... Oddio... Sora... Oh... Pippo... Che significa Pippo? Tra 100 che signific... Che c***o significa! Nessuno lo sa Sora... Nessuno... Lo sa... Mi dispiace per il tuo cane. Non era mia intenzione sopprimerlo. Non potevo esporre Bobbi a dei personaggi così infantili. Oh, ho toccato un nervo scoperto. Sì, accogli l'oscurità, perché dove c'è oscurità c'è luce. E dove c'è luce ci sono il propano e i suoi accessori. Ti sbaccherò il culo. Ciao ragazzi, se il video vi è piaciuto mettete un bel pollicezzo su a questo video e fate sapere ai fan-dumbers che cosa ne pensate di questo video. E ora passiamo ai salumi. Allora, io che sono ditta, ci tenevo a salutare Lillia Bicone. Ciao Lillia Bicone. Ci vediamo alla pensione Bacchamon. E qua vedo che c'è un altro mio friend. Justin Bacchamon Pateta. Ciao. Quando vuoi, la pensione è aperta per te. Allora, io che sono Mario, ci tenevo a salutare Desirum TM. Ciao Desirum, mi raccomando. Ti fa sempre per me e non mai per Luigi. Ciao a tutti da Hamilton. Io ci tenevo tanto a salutare Kijay Zeta. Ciao Kijay. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti.